Lunedì 20 maggio, Papa Francesco ha incontrato in Vaticano i Vescovi italiani per l'Assemblea di Primavera della Conferenza Episcopale Italiana. Cioè, durante l'incontro, che si è svolto a porte chiuse, il Pontefice ha risposto a diverse domande dei presenti. Come riportato da D'Agospia e confermato da Repubblica, Papa Francesco ha riaffermato la posizione della Chiesa riguardo ai seminaristi omosessuali. Il Papa ha ribadito che la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al seminario e agli ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità. Presentano tendenze omosessuali profondamente radicate, o sostengono la cosiddetta cultura gay. Questo messaggio conferma, l'orientamento già espresso dalla Chiesa Cattolica, sottolineando l'importanza di mantenere certi criteri, nella selezione dei candidati al sacerdozio. Durante la conversazione, descritta come dal tono molto colloquiale, Papa Francesco avrebbe espresso preoccupazioni riguardo a un'eccessiva presenza di atteggiamenti che ha definito come frociaggini in alcuni seminari. Questa espressione, seppur forte, riflette la sua determinazione nel voler affrontare quella che considera una problematica significativa all'interno della formazione sacerdotale. L'incontro, dunque, ha evidenziato la volontà del pontefice di mantenere una linea chiara e coerente con la dottrina tradizionale della Chiesa Cattolica, cercando di garantire che i futuri sacerdoti rispecchino pienamente i